Tra le sfide che la scuola italiana deve affrontare nell'anno 2020-2021 c'è sicuramente l'introduzione di educazione civica. Questo webinar a scuola di cittadinanza intende affrontare questa sfida declinandola in alcune proposte. Prima di tutto prendiamo in considerazione un progetto di scuola di politica, un progetto di natura laboratoriale in cui gli studenti sono avvicinati, sensibilizzati al problema della partecipazione politica e anche all'accesso corretto o non problematico all'informazione, un accesso critico in questo senso così come alle tematiche della cittadinanza digitale. Affronteremo quindi un progetto dedicato invece agli studenti più grandi, è una sorta di laboratorio di cittadinanza in cui gli studenti avranno occasione di approfondire tutta una serie di problematiche che sono necessarie per creare un cittadino consapevole e competente e che sorpassano però di fatto i normali programmi ministeriali del quinto anno. Infine prenderemo in esame alcune proposte per la giornata della memoria nel senso per cui valuteremo un processo di memoria attiva, cioè non semplicemente commemorativa, ma un'indagine delle dinamiche in atto nei confronti dello sterminio del popolo ebraico in modo tale da guardarci da che una simile eventualità abbia in qualche modo a ripetersi ai nostri giorni.